Musica Salve a tutti ragazzi io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global Allora ragazzi oggi è uscito l'evento e come potete vedere siamo sul banner Dove c'è Squall, Lyle e Yuri per andare a pullare Pulleremo con i ticket perché di Squall ho tutto Di Lyle ho sia la 15 che la 35 che ho maxate quando abbiamo pullato per Zack Yuri diventerà forte in futuro ma attualmente non mi interessa Quindi direi che possiamo andare alla ricerca della ex di Lyle Quindi andiamo subito a pullare con i ticket Come vedete ho 211 ticket quindi qualche probabilità di trovare la ex potrebbe anche esserci Come sempre io vi andrò a velocizzare adesso i ticket così non sentirete neanche il tappare sullo schermo E speriamo di trovarla anche abbastanza velocemente perché comunque cliccare 200 ticket parte veramente il dito Naturalmente vi andrò anche a portare gli stage Cosmos del nuovo evento però devo avere anche il tempo di riuscire a completare gli stage Quindi non so quando riuscirò a postarvi i video Beh direi che possiamo già anche iniziare a velocizzare il tutto e ci rivediamo o quando troviamo la ex O magari quando finiscono i ticket non so se fare un pull Vediamo un attimino Vediamoci l'ultima e velocizziamo Dai magari ci esce qua con una botta di fortuna così randomica all'inizio No da 35 Va bene dai velocizziamo il tutto No da 35 No da 35 Così dal nulla ragazzi L'ex di Squall non è quella che cercavo però Quindi boh continuiamo L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così Così tanto vero L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di Squall non è una botta di fortuna così L'ex di krijgen L'ex come seppia messero dai tickets Ma quella sbagliata Dai datevi quella che vi serve Qua volete vedere che a me mi finisce a pullare con le gemme Per prendermi la ex di Lailia E non so nemmeno se farlo se se pullare con le gemme Non lo so Ragazzi intanto io se voi cercate Squall spero che abbia la mia stessa fortuna a trovare Rex così dai ticket come se piovessero proprio a raffica ne vuoi una, ne vuoi due, ne vuoi tre forse è per il mio nick quindi salve sono Spol e quindi eccoti Rex di Squon mi chiamo Lyle salve sono Lyle, datemi Rex di Lyle vabbè dai continuiamo vedete ragazzi funziona salve a tutti sono Lyle, ho cambiato Nick a posto così non ci credo non ci credo ragazzi l'abbiamo presa, non ci credo Rex come esempio Vessero, dopo Rex di Squon che non cercavo assolutamente perché ce l'ho ammazzato tutto ammazzato gli ho ammazzato anche l'arma 4 stelle figuratevi, tutto ammazzato scuol cercavo solamente Lyle tra Rex di Squon X come se piovessero ragazzi qua è obbligo like, obbligo quindi abbiamo scoperto il trucco quando andate a pullare con i ticket almeno con i ticket registrate un video dite che vi chiamate come il personaggio che volete cercare mi esce sicuro è stato un attimo ho detto mi chiamo Scuol ecco di Rex di Squon mi chiamo Lyle ecco di Rex di Lyle ma non era così ok ma se non pullo più con i ticket ho ottenuto quello che volevo non so se ho preso anche le armi di Yuri andrò poi a guardare non so quanto sia durato il video perché comunque mi velocizzo naturalmente i ticket come sempre ci sarà una musichetta di sottofondo adesso vediamo quale andare a prendere sono indeciso se prendere quella di Lyle o qualche host di Squall perché a questo punto visto l'ex di Squall che mi sono uscito sono veramente indeciso che dire banner fortunatissimo per me veramente qualcosa di eccezionale adesso tutte le armi che ho ottenuto di Squall sono delle Power Stone al 100% tutte le armi che ho ottenuto di Lyle sono delle Power Stone l'unica che mi serviva era quella di Lyle l'ex di Lyle che ho ottenuto è stato veramente eccezionale come cosa veramente va bene ragazzi io vi auguro tanta fortuna anche più di quella che ho avuto io perché ripeto un banner veramente fortunato per me vi invito a iscrivervi al canale lasciare like commentare condividere il video attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi e tutti i prossimi video usciranno sul canale e a breve non so quando ma a breve andrò a portare anche gli stage Cosmos che sono usciti con il nuovo evento e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao a tutti